martedì 28 marzo buongiorno e bentrovate cari amici e amici bianconeri qui sul canale titolo del contenuto odierno tempistiche prisma e distorsioni della realtà per il quale ovviamente se sarà stata di vostro gradimento questa puntata vi invito a mettere pollicione verso l'alto se non siete iscritti al mio canale youtube iscrivetevi e azionate la campanella notifica per rimanere costantemente aggiornati su tutti i contenuti che pubblicherò su questa piattaforma vi invito altresì a scaricare l'applicazione one football di cui vi lascio qui sotto in descrizione il link un'applicazione gratuita leggera non invasiva che trovate disponibile sia su play store che su apple store a seconda di vostri dispositivi vi dà la possibilità di essere costantemente aggiornati su tutti i contenuti che ruotano intorno al mondo del calcio di selezionare la vostra squadra del cuore per non perdervi nulla ma proprio nulla che va a riguardarla e attraverso one football potrete anche godervi comodamente subuti sul divano qualora ve li foste persi o voleste rivederveli tutti gli highlights di tutte le partite di serie a serie b e serie c appunto a portata di mano veniamo al contenuto di quest'oggi faccio subito una precisazione perché nel contenuto di ieri mi avete ovviamente chiesto conto in merito alle tempistiche a cosa accadrà adesso alla juventus si andrà per le lunghe cosa succederà nel frattempo bene io ovviamente non sono e lo voglio sottolineare anche perché qualcuno giustamente mi sottolinea spesso sotto i contenuti qualora commetta degli errori ad esempio non è il processo prisma ma è l'inchiesta prisma e quindi non essendo titolare della materia della giurisprudenza cerco di documentarmi di informarmi per riportarvele poi qui sul canale mi scuso se qualche volta mi esce qualche termine inappropriato nella fretta nel cercare di spiegare come ad esempio processo prisma piuttosto che inchiesta prisma detto questo per quelle che sono le mie documentazioni posso rispondere sulle tempistiche in questi termini voi sapete che il giudice delle indagini preliminari ha rimandato tutto al 10 di maggio perché un gruppo di persone una trentina di persone hanno deciso di costituirsi o hanno meglio hanno chiesto di costituirsi parte civile e allora questa richiesta dovrà essere vagliata ovviamente non ci sono sentori né motivi perché questa richiesta non debba essere accettata a questo punto le persone gli ex dirigenti della juventus e la juventus stessa dovranno essere citati in giudizio ora per la citazione in giudizio chiaramente non avverrà questo 10 maggio allora quando verranno accolte sostanzialmente le richieste di costituzione parte civile di quelle 30 persone circa che hanno deciso di farlo e allora ci sarà un rimando perché come ben sapete la giustizia ordinaria non ha i tempi della giustizia sportiva e tutto ruota su binari decisamente più lunghi pertanto è ipotizzabile che si possa andare in là con il tempo dopo l'estate e a quel punto una volta che la juventus e i suoi dirigenti saranno citati in giudizio la juventus è molto proprio presumibilmente come già è ampiamente noto chiederà il trasferimento del processo dalla sede della procura di torino alla sede di milano eventualmente a quella di roma a quel punto che cosa succederà succederà che il giudice per le indagini preliminari dovrà rimettere il tutto alla corte di cassazione per la decisione in seno al trasferimento del processo da una sede all'altra e qui ovviamente i tempi tenderanno ulteriormente a dilatarsi è ipotizzabile che nel caso tutto questo sia accolto ovvero il trasferimento da una sede dalla sede di torino a quella di milano sede della borsa o eventualmente di roma potremmo andare intorno al principio 2024 per l'inizio del processo vero qualora fosse rigettata ecco allora che a quel punto ci potrebbe essere contro ricorso della juventus la situazione potrebbe ulteriormente allungarsi e quindi si potrebbe addirittura arrivare al 2025 prima dell'inizio del processo per questo sono a dirvi che in merito tutto quanto sta accadendo difficile oggi dire che cosa accadrà la juventus che che tipologia di penalizzazione che possa essere sportiva o penale o tutto quello che accadrà i tempi sono ovviamente quelli della giustizia ordinaria che non sono quelli della giustizia sportiva tutto decisamente più lungo quindi si tratta semplicemente di attendere e di capire lo sviluppo degli eventi a chi mi chiede se tutto questo è fatto per arrivare alla prescrizione e quindi con i tempi della giustizia ordinaria tutto questo è fattibile quindi uscirne come già accadde all'inter per discorso calciopoli o precedentemente alla juventus per la questione doping io non ho la capacità di risposta a questo lo ribadisco non sono proprietario della materia della giustizia prudenza ben conoscendo però quelli che sono i tempi di attesa della giustizia ordinaria io pensare però che tutto questo sia stato fatto volutamente per allungare i tempi per arrivare alla prescrizione beh credo che ci voglia penserei anche abbastanza a fantasia detto questo attendiamo e insieme cerchiamo di raccontare e di capire come saranno gli sviluppi dell'inchiesta il prisma venendo alla distorsione della realtà beh mi sembra doveroso soffermarmi perché sapete che in questi giorni in cui ovviamente la juventus è sulla bocca di tutti per tutto quello che sta attraversando extracampo ci voleva ovviamente la rai con la riproposizione del gol di turone con questo documentario con il quale si rievoca un qualcosa che fa tornare indietro nel tempo a 40 anni e mi viene in mente un pochino tutto quello che tutto quello che accade ogni volta che c'è la sfida juventus inter o inter juventus con la rievocazione del fallo giuliano ronaldo ora il compianto gigi simoni non c'è più altrimenti sistematicamente tutti gli anni era costantemente intervistato su quell'episodio vogliono far passare la juventus come il male del calcio beh io credo che invece ci sia una sorta di giornalismo fazioso che faccia il male del calcio perché nel racconto del gol di turone prendo anche a spunto un cronista di rds l'emittente rds proprio ieri pomeriggio mentre ero di rientro verso casa in macchina mi è piaciuto molto ciò che ha detto non ricordo il nome me ne scuso ma io pur tifoso della roma sono anche stufo che ogni anno si rievochi un episodio di 40 anni fa perché poi alla fine certezze assolute non se ne hanno in ogni caso bisogna andare avanti non si può sempre ritornare a guardare ciò che accade 40 anni fa ecco io sono assolutamente di quell'idea sono assolutamente concorde ben sapendo che sul piatto della bilancia dobbiamo mettere tutto perché è stato evocato ciò che disse ciò che ha detto giorgio martino sulle pressioni che la juventus avrebbe fatto in merito all'episodio che non avrebbe più mandato ospiti in trasmissione e quindi pressioni affinché non fosse mandato in onda l'episodio relativo al gol di turone negato alla roma e che poi regalò lo scudetto alla juventus detto che per l'epoca non ci sono immagini nitide chiare che possono determinare l'assoluta certezza che il gol fosse regolare peccato che in questo giornalismo fazioso di cui vi sto raccontando in molti anche di anti juventini e basta fare una scorsa su twitter anche nella giornata di oggi potrete trovare nel commento al famoso gol di turone come sia bellissimo che la gente ometta quelle che furono dichiarazioni pesanti ma al tempo stesso altrettanto da mettere sul piatto della bilancia così come quelle di giorgio martino fatte dal carlo sassi il quale disse che la moviola in tal senso su quell'episodio fu sostanzialmente che dire poi di quello che accade in epoca passaportopoli in epoca calciopoli rievoco le dichiarazioni del procuratore dell'allora procuratore federale porcedu il quale ha sostanzialmente ammesso sul piatto e sul sul tavolo all'ascolto di tutti ve lo potete andare a ritrovare tranquillamente su youtube che sostanzialmente fu chiedo scusa se ho utilizzato l'avverbio sostanzialmente perché qualcuno non è non è non è contento di questo chiedo scusa ma ha chiaramente detto che il passaporto di verona all'epoca in cui la lazio vinso lo scudetto in quella famosa fatal perugia risultò regolare salvo poi accorgersi successivamente che furono documenti rubati dalla procura di latina in quella procura di latina che se non sbaglio mi pare operasse un certo giuseppe chinè ma qui potrei anche commettere un errore almeno a livello di tempistiche detto questo facciamo un ulteriore passo su mogiopoli calciopoli come volete chiamarla c'è una dichiarazione chiarissima che ammette che poiché non furono trovati diciamo irregolarità tali per cui i campionati revocati alla juventus dovessero essere ritenuti irregolari non se ne capisce il motivo se non perché l'allora presidente della fedella figici guido rossi decise di revocare gli scudetti alla juventus per assegnarne uno all'inter un chiaro ed evidente conflitto di interessi sul quale mi piacerebbe che un giorno fosse fatto un docufilm perché ok ci sono gli errori di una squadra ci sono gli errori di un'altra squadra ma che quello fu un processo intriso di conflitto di interessi non lo può cavare dalla testa di nessuno non lo si può assolutamente negare perché mi pare evidente che tra intercettazioni telecom laddove tronchetti provevra aveva un certo influsso laddove guido rossi ex amministratore ex consigliere nel consiglio di amministrazione dell'inter fino all'anno precedente poi alla figici decisero per la diciamo le intercettazioni andate in una direzione e la revoca dello scudetto sapete bene in che direzione andò ecco sarebbe bello che quel giornalismo che spesso risulta essere fazioso come se la juventus fosse il male del calcio ci raccontasse chiaramente che cosa avvenne invece in quell'epoca 2006 salvo poi ce ne servono tanti da raccontare magari attendiamoci che nei prossimi anni possa essere fatto un docufilm anche su tutto quello che accadde non del fallo di pianice e l'audio ma magari su quello che accadde in quel famoso juventus salernitana che priva la juventus di due punti sacrosanti in epoca tecnologia davvero incredibile pensare che tutto questo sia accaduto ma siccome accade la juventus va bene se invece il gol di turone di cui non abbiamo immagini nitide chiare fu annullato è chiaro che fu un furto dei bianconeri ditemi la vostra ci sentiamo presto come sempre fino alla fine forza juve